Ed ora la cronaca, tentato furto in una villetta di San Lorenzo a Vaccole in via Bozzone ma i ladri sono stati evidentemente disturbati all'intervento di una gazzella dei carabinieri e sono stati costretti a fuggire rubando solo monili e oggetti in oro. E' accaduto nelle prime ore del pomeriggio di ieri quando la casa era vuota, i proprietari erano al lavoro e i ladri pensavano ovviamente di poter agire indisturbati. A chiamare i militari della vicina stazione di San Lorenzo a Vaccole sono stati alcuni abitanti della zona insospettiti dai rumori che provenivano dall'interno dell'abitazione e tra l'altro in un'area appunto in cui i proprietari sono normalmente al lavoro. Evidentemente i rumori hanno tradito i ladri, il tempestivo intervento dei carabinieri li ha costretti ad una precipitosa fuga, ne è nato un inseguimento attraverso i campi ma alla fine i tre sono riusciti a fuggire.